Quasi la totalità delle batterie a litio, soprattutto per i cellulari, ad un certo punto della loro esistenza decidono di inscenare una gravidanza isterica, gonfiandosi fino a partorire una potenziale esplosione incendiaria. Prima che ciò accada è opportuno trovare un rimedio. Cosa certa è la rimozione e lo smaltimento nei centri autorizzati. Per continuare ad utilizzare lo smartphone ci sono varie opzioni. La più sensata, se si vuole utilizzare normalmente lo smartphone e comprare la batteria di ricambio. Talvolta, come nel mio caso, specialmente per smartphone vecchi, la batteria di ricambio ha un costo superiore al valore dello smartphone. Ma se se ne fa un uso alternativo, tipo IP camera, telefono, SIP, eccetera, dove richiesta alimentazione continua, si può optare per la costruzione di una batteria infinita. La maggior parte degli smartphone non si accendono seppure alimentati se la batteria non è presente. Pertanto, bisogna ingannarli mandando l'alimentazione direttamente ai contatti della batteria, verificando che non vi siano ulteriori protezioni tramite i pin di controllo dello stato della batteria. In sostanza, bisogna individuare i contatti dei poli negativi e positivi della batteria, ignorando gli altri. Controllare la tensione erogata dalla batteria e costruire un adattatore a forma di batteria che abbia contatti positivo e negativo con la medesima tensione della batteria per evitare problemi elettronici e danneggiamenti. Nel mio caso mando direttamente una tensione da 5 volt, che pare essere supportata senza problemi dal mio smartphone, ma in altri potrebbe bruciare i circoli, quindi nel dubbio fornire sempre la stessa tensione della batteria. La modifica non è permanente, in quanto l'adattatore costruito potrà essere rimosso in qualsiasi momento e rimpiazzato da una batteria di ricambio, caso mai subentrassero altre necessità, anche se l'adattatore può essere collegato a batterie esterne con opportune tensioni, ovvero che nel mio caso una semplice power bank. Dunque più scomodo di una batteria, ma con estrema versatilità di utilizzo. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto! Grazie per la visione! Ciao! 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 Ciao!